Nuovo step sull'inchiesta calabrietica in merito a presunti assunzioni illegittime all'interno dell'ente in house della Regione. La Procura di Catanzaro è arrivata a delineare l'ipotesi di reato di abuso di ufficio su un'indagine iniziata a febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo Sanità e Ambiente che hanno acquisito su richiesta del Procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri una serie di documenti, in particolare quelli relativi alle assunzioni a tempo determinato effettuato dall'ente tanto nel periodo immediatamente precedente alle elezioni regionali del 23 novembre scorso quanto nel periodo successivo per un totale di circa 700 contratti al costo complessivo di oltre 5 milioni di euro. Il fascicolo d'inchiesta, ad esse sul tavolo del sostituto procuratore della Repubblica Graziella Viscomi, l'ente che si occupa di politica e di solidarietà sociale a capo del Dipartimento X e dell'assessorato al lavoro all'epoca dei fatti retto da Nazareno Salerno, oggi consigliere regionale di Forza Italia, avrebbe firmato e sottoscritto in carichi lampo assunzioni la maggior parte dei quali a titolo precario finiti nel mirino della Procura che sta indagando anche sulla licetà di altri contratti stipulati da Calabria Etica nei mesi di dicembre e gennaio e che avrebbero garantito 54 collaborazioni nuovi di Zecca a beneficio dei lavoratori di La Mezza Terme, territorio dove è candidata a sindaco proprio Pasqualino Roberto, presidente dell'ente in house prima che Calabria Etica fosse commissariata. Grazie a tutti